Ecco che inizia la sfida con il primo pallone manovrato come detto dall'Atletico Terme Fiuggi. Sembra pronto ad andare in Potenza, ecco che va lui con il destro a girare direttamente in porta! È un grandissimo gol, la sbloccata Potenza dopo 4 minuti sul cronometro. L'Atletico Terme Fiuggi è già in vantaggio, esulta il 7 che viene abbracciato da tutti i componenti della panchina. Prodezza! Chiama lo schema Diallo, ecco che parte il suo traversone per lo stacco di testa di un giocatore in area di rigore. Panaioli e Monza in area di rigore, ecco che parte il traversone ancora pericoloso, il colpo di testa questa volta però. Secco non riesce a smanacciare e allora arriva il pareggio della Vastese, sembra aver colpito Di Filippo da solo, indisturbato in area di rigore. Per Agnello che poi va a lungo, attenzione pericolo in area, ancora Alonzi in area piccola e poi si salva in qualche modo. Alonzi e Monza sempre in area di rigore, altro traversone molto pericoloso. Ancora Agnello la fa scorrere per Panaioli all'ingresso in area di rigore, lato corto. Il cross pericolo e arriva il gol del raddoppio della Vastese, lasciato tutto solo in area di rigore, libero di colpire l'attaccante degli ospiti. Fa 2 a 1 e si ricomincia. È iniziato il secondo tempo di Atletico Terme, Fiuggi, Vastese. Buona la sfera qui per il 10, poi Panaioli, il tiro e il gol! Un gol fantastico sotto l'incrocio dei pali. Dovrebbe trattarsi di Monza che ha trovato l'incrocio. Ancora Agnello, forte deviato e il pallone finisce in rete. Il gol del 4 a 1 che chiude di fatto il match game over praticamente al Capo Iprati per l'Atletico. È 4 a 1 in favore della Vastese. Raccoglie la sfera un compagno che va alla battuta con il destro dalla distanza. Il rinvio lungo, l'arbitro porta il fischietto alla bocca e fischia tre volte tonfo interno dell'Atletico in casa contro la Vastese che espugna il Capo Iprati per 4 a 1 e notte fonda a Fiuggi per la formazione di Fabrizio Romondini.